Ben trovati da appuntamento con Dentro il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Tre i temi, ecco gli argomenti. Parleremo dell'invio, del rinvio anzi dell'insediamento della Commissione speciale e poi per quanto riguarda l'inchiesta Cheu Gianni che ritira di fatto una legge lo scorso anno e poi avremo anche un focus sul dibattito che si è tenuto in aula da parte dei consiglieri. Partiamo invece dalla cosa più recente, dall'Ufficio di Presidenza regionale che propone un ufficio di Presidenza provvisorio per la Commissione speciale, quella per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni. Già nella scorsa puntata vi ne avevamo parlato, attendevamo questo insediamento che di fatto non c'è stato perché vi spieghiamo che sono state due le liste presentate, la prima firma della maggioranza con le candidature di sostegno del Partito Democratico come Presidente, Marco Landi della Lega come Vicepresidente e Andrea Vannucci come segretario e questore. La seconda invece a firma dell'opposizione proponeva Marco Landi come Presidente, Stefano Scaramelli di Italia Viva come Vicepresidente e Silvia Noferi come segretaria, ma la proposta dell'opposizione è stata rifiutata direttamente da Scaramelli annunciando che non avrebbe partecipato al voto perché non è interessato alle poltrone. A quel punto sono andate le due liste, quella della maggioranza rimasta invariata, mentre nelle opposizioni sono state riproposte Landi e Noferi come Presidente segretaria e Vannucci come Vicepresidente. C'è stata la votazione, i consiglieri hanno espresso cinque voti a favore della lista di maggioranza, quattro invece a favore della lista delle opposizioni. Scaramelli non ha partecipato al voto ma essendo necessaria la maggioranza dei tre quinti si è dovuto procedere a una seconda votazione che si è conclusa con lo stesso risultato. Al termine del voto il consigliere Marco Stella ha annunciato a Mazzeo che avrebbe rassegnato le dimissioni dalla Commissione. Quindi che cosa è successo? Mazzeo ha preso atto del voto che non permette l'elezione dell'ufficio di Presidente della Commissione e letto il regolamento ha annunciato la riunione di ufficio della Presidenza del Consiglio regionale e la nomina quindi in un ufficio di Presidenza provvisorio della Commissione speciale. Vi riassumiamo tutto in questi pochi istanti dove ascoltiamo proprio il commento dei consiglieri che fanno parte appunto di questa votazione, di questa Commissione. Personalmente vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della Commissione sui vaccini, non ci è interessato questo triatrino fra i partiti rispetto a chi debba fare il Presidente e il Vicepresidente, non ci siamo iscritti e non partecipato a questo aspetto. Abbiamo fiducia sul fatto che se sostegni sarà il Presidente e possa però lavorare in questa Commissione ponendo delle condizioni. Io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione, una convocazione permanente della stessa, senza interruzione di continuità, la presenza costante ad ogni riunione del Presidente Gianni perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini il Presidente possa condividerlo con la Commissione. Queste sono le condizioni che noi poniamo e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere, condividere quelli che saranno gli hub da definire, condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende, le associazioni di volontariato, l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer per pronotare un vaccino. Chiediamo l'impiego dei medici di medicina generale per poter vaccinare i fragili e soprattutto chiediamo di fare una comunicazione che diventi informazione. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani, ci aspettiamo che il lavoro di questa Commissione ogni giorno che si va a riunire alla sera dia comunicazioni sia questa la comunicazione istituzionale e formale della Toscana dai cittadini in merito ai vaccini e dal giorno dopo si facciano le cose che questa Commissione ha deciso di fare in maniera collegiale. Se c'è una Commissione ha un senso di lavoro, noi siamo per dare una mano, siamo per dare un contributo, non siamo per prendere una poltrona, non ci appartiene, motivo per il quale non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno. Noi ci serve fare un vaccino in più, è meglio un vaccino in più che una poltrona in meno. Non avevamo mai visto onestamente una situazione così paradossale. Noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile l'istituzione di una Commissione speciale sui vaccini perché eravamo convinti che occorreva un salto di qualità nel piano vaccinale, occorreva dare un contributo fattivo alle tante lacune della fase vaccinazione che c'è in Regione Toscana, per esempio come la nostra mozione per vaccinare i malati oncologici anche dopo i sei mesi dalla fine delle cure chemioterapiche o della radioterapia fino ad arrivare ai cinque anni di follow up. Eravamo convinti che occorreva per esempio vaccinare i caregiver, non solo quelli dei bambini sotto i 16 anni, ma tutti. Eravamo convinti che occorreva accelerare e vaccinare il più velocemente possibile. Poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta, senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata, della Presidenza della Commissione speciale sui vaccini sarebbe aspettata naturalmente al Partito Democratico, ma a chi? A Enrico Sostegni, cioè a quello che attualmente è il Presidente della Commissione Sanità. E gli stessi membri della Commissione Sanità il Partito Democratico li ha riportati nella Commissione speciale sui vaccini. Noi l'abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza, da un lato che non avrebbe portato nessun tipo di contributo. Per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'istituzione, oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla Commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare, se il tema diventa quello di non scoprire, se il tema diventa quello di non proporre, se il tema diventa quello di dire va tutto bene. Guardate, soltanto stamani mattina sono arrivate migliaia di persone che non sono riuscite a vaccinarsi. Ecco perché laddove non c'è chiarezza non può esserci Forza Italia. Noi abbiamo scelto di non partecipare perché ritenevamo che la Commissione speciale, così per come è impostata, fosse semplicemente un doppione della Commissione terza che si occupa già di salute e sanità e non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento dove far accomodare qualcuno. I fatti di oggi di fatto ce lo confermano, sono le 4 e un quarto. La Commissione speciale era convocata per le 14 e 30 per l'elezione del Presidente, ancora non c'è stato, dopo due ore di fatto di ritardo, perché c'è stato probabilmente uno scontro su chi farà il Presidente. Da una parte c'era la candidatura portata avanti dal Partito Democratico dell'attuale Presidente della terza Commissione, quindi appunto il doppione, dall'altra la candidatura avanzata dal Vice Presidente Italia Viva Scaramelli, il quale abbiamo sentito chiede, starò dentro a patto che Gianni partecipi costantemente ai lavori della Commissione, evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza Commissione. Uno spettacolo indegno, indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o si vede nei film. Ecco, oggi grazie all'ostruzionismo, perché non si può chiamare in un altro modo di Forza Italia e di Italia Viva, si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa Commissione. Quando fuori ci sono problemi grossissimi, i cittadini non riescono a prenotarsi sul portale predisposto dalla Regione Toscana, addirittura ci sono delle criticità per cui si possono prenotare anche in due liste diverse. Quindi un sacco di problemi che potrebbero essere affrontati in questa Commissione, voluta, ricordo, dal Movimento 5 Stelle e anche dalla Lega, votata dal Partito Democratico. Però oggi si è cercato di tutto per impedire la nascita di questa Commissione. Abbiamo perso un pomeriggio solo per decidere chi doveva fare il Presidente e Vicepresidente, con tutta una serie di cavigli legati al regolamento che a mio avviso sono inammissibili, sono inammissibili soprattutto in un periodo così grave come quello che stiamo vivendo. La Commissione sarà oggetto di un vertice provvisorio che l'Ufficio di Presidenza voterà e dopodiché credo che debba partire al più presto. È chiaro che comunque c'è una Commissione Sanità che sta lavorando, sta lavorando in maniera sistematica, sta lavorando bene e quindi credo che noi andiamo avanti e andiamo avanti dando tutto il supporto possibile alla Giunta e al Presidente. Il nostro è stato un atto generoso, quello di votare uno strumento che ampliasse la partecipazione comprendendo tutte le rappresentanze del Consiglio che ne hanno voluto far parte. Se ci hanno ripensato, il problema credo sia soprattutto un problema di coerenza da parte loro. Noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa Commissione speciale perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo. Lo abbiamo detto, ci abbiamo messo la faccia, ci vogliamo mettere anche il nostro lavoro perché cose come quella successa stamattina non devono più succedere, portali che non funzionano. Vediamo che purtroppo la Toscana è l'ultima per la vaccinazione dei sessantenni. Ecco ci sono tante cose ancora da risolvere. Noi vogliamo dare un contributo ma evidentemente le lotte interne alla maggioranza fanno in modo che si ritardi la creazione della Commissione ma evidentemente anche l'istituzione della stessa. A noi ci dispiace però io credo che la politica debba guardare anzitutto al bene dei cittadini. Purtroppo in questo momento oggi abbiamo visto un brutto spettacolo che non ci fa portare il nostro contributo e il contributo che tante persone per bene ci chiedono tutti i giorni. E adesso invece andiamo al Consiglio regionale anche perché nella Commissione ci ritorneremo nelle prossime puntate. Che cosa è successo quando il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni ha chiesto al Consiglio di eliminare la legge numero 20 2006? Che cos'è il contenuto di quell'emendamento e che cosa riguarda appunto, ve lo diciamo subito, i rifiuti delle concerie. Introdotto appunto il 26 maggio dello scorso anno, 2020, quel giorno il Consiglio era chiamato a discutere la proposta di legge sugli scarichi di restituzione delle acque. I conciatori, emerge dagli atti dell'inchiesta, volevano un emendamento per escludere un impianto di depurazione dall'obbligo della procedura di autorizzazione integrata. Quell'emendamento sarebbe stato scritto, secondo gli inquirenti, da Alberto Benedetti, avvocato dei conciatori, indagato nell'inchiesta e consegnato al Consigliere regionale Andrea Pironi. Quindi ascoltiamo Eugenio Gianni. La regione toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati a cui va la nostra piena fiducia, accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare la correttezza degli atti e dall'altra parte mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato, visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone, sovrintese naturalmente a quelle che possano arrivare dal livello regionale. Visto che non ha prodotto effetti in un anno, tanto vale approvarlo e lunedì noi faremo partire l'iter attraverso una delibera di giunta. E allora a questo punto c'è stato il lungo dibattito sull'inchiesta Cheo che si è concluso con l'approvazione della proposta di risoluzione presentata al gruppo PD, il primo firmatario Vincenzo Ceccarelli che impegna la giunta a proseguire con la massima celerità con tutte le azioni necessarie a verificare se dagli ipotizzati comportamenti malavitozzi sia conseguita una contaminazione dei terreni e delle misure e poi oltretutto anche un inquinamento delle acque in tutti i territori potenzialmente interessati. Questa indagine probabilmente è partita da un rilievo che ha fatto l'ARPAT in relazione allo smaltimento di un altro tipo di rifiuto, quello che poi prevede la creazione del cosiddetto Cheo, quindi queste polveri, questi fanghi che poi vengono smaltiti. L'ARPAT ha detto che non potevano andare direttamente in situazioni di riciclo nell'ambiente ma dovevano essere depositati in discarica e da lì probabilmente è partita questa indagine e la magistratura nella quale noi riponiamo la massima fiducia e lì abbiamo subito come regione anche un ricorso che addirittura è arrivato fino al Presidente della Repubblica ma ha visto l'attività e la posizione rigorosa della regione prevalere. E poi non si è limitata a questo perché ha cercato anche di aiutare uno che è uno dei distretti di maggiore eccellenza che abbiamo in questa regione perché nel momento in cui ha posto questi stop all'utilizzo del CHEU dove poi invece probabilmente è stato destinato in maniera illegale ha anche individuato una discarica dove si poteva andare per non lasciare nella difficoltà gli operatori. Una discussione riguarda il procedimento che la magistratura sta portando avanti e che alla fine dovrà dirci se nella nostra regione esistono degli assassini perché non esiste un altro termine per poter etichettare persone che in cambio di qualche euro hanno scelto di sotterrare sotto il nostro suolo migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici condannando a morte di fatto tre generazioni minimo di cittadini toscani. Massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che ha un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Sul tema ambientale invece dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire, però c'è necessità di agire velocemente, altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini. È gravissimo per chi apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto dell'attenzione delle mafie. E questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla regione toscana in questi anni e di cui anche il Presidente Gianni ha parlato, di fatto allora sono stati inutili. I report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante e di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL Toscano, 6 mila addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi. E se c'è qualcuno che ha sbagliato, quel qualcuno deve essere allontanato, ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare, noi dobbiamo sostenere quel distretto. E per questo nostro appuntamento è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti www.consiglio.regione.toscana.it Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è la prossima settimana, sempre qua, dentro il Consiglio. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è la prossima settimana, sempre qua, dentro il Consiglio.